Ripropongo una telefonata del compianto dottor De Donno e poi ditemi se questo grande dottore, questo uomo immenso, pieno di valori, poteva mai desiderare di togliersi la vita. Io non credo. Sto cercando di stare alla larga il più possibile oggi e domani dal telefono. Quello che volevo dirti è che con molto piacere mi piacerebbe incontrare e coinvolgere gli industriali modenesi del mondo della ceramica, anche perché il mio sogno è che questo centro di ricerca etica sia non soltanto di Mantova, però anzi collegato a molte università e quindi anche Modena potrebbe essere una di queste. Stiamo discutendo, abbiamo oggi iniziato col direttore generale, una discussione sulla tipologia di forma giuridica, per intenderci, a cui affiliare il centro. Appena io ho un minimo, ma proprio un minimo di bozza, te lo dico, così organizziamo un incontro con i tuoi interlocutori. Diggielo che sono veramente molto contento. So di certo che mi sta cercando, per cui presumo che voglia inserirmi tra i suoi consulenti, probabilmente perché si sta preoccupando per quel che ho detto in Senato sull'altra sperimentazione, quella del tocirizzo, ma se credono di tapparmi il muso così un pochettino forse si sbagliano. Grazie a tutti.